Presidio permanente dei lavoratori Sanita Service davanti alla direzione generale dell'ASR di Brindisi in Via Napoli. Dalle 8 del mattino alle 8 di sera i sindacati hanno proclamato un'assemblea generale che affianca i dipendenti, che lamentano gravissime criticità, insieme ai precari protagonisti delle proteste di questi giorni. I lavoratori tutti di Sanita Service protestano per la carenza organica, per le risorse umane che mancano, per le sostituzioni non effettuate, per 60 lavoratori licenziati dopo aver vissuto la pandemia, dopo aver lavorato con abnegazione, chiediamo una ricognizione di tutto il personale assente e soprattutto la valorizzazione di tutte le figure professionali che hanno dato l'anima in pandemia, che non si sono mai fermate e che meritano stabilità occupazionale. Siamo assistendo, come diciamo in questi giorni, ad un rimpallo di responsabilità fra l'organo politico e quello tecnico. Di fatto oggi questi lavoratori sono messi in una condizione di assoluto disagio, sono persone che si sono adoperate nel periodo difficile del nostro paese, oggi vengono scaricati come si scaricano le valigie. Ci sono solo parole ad oggi, non abbiamo fatti, stiamo aspettando se ci convoca il direttore generale per almeno che ci illustrasse qual è lo stato dei fatti, perché c'è il silenzio tombale e noi come organizzazioni sindacali non faremo assolutamente il gioco della politica, il silenzio. I rappresentanti sindacali in mattinata hanno incontrato il direttore generale dell'ASL, Flavio Roseto.